con Gianluca Borrelli, Termometro Politico, abbiamo messo insieme delle domande. Allora, Gianluca, vediamo un po' la prima domanda che hai posto al tuo campione. Sì, sono domande piuttosto articolate. La prima domanda riguarda di come ha gestito il governo questa situazione. La risposta ricalca molto un po' le intenzioni di voto, infatti poco più del 50% è critico e invece intorno al 45% è invece più gentile. Sì, voglio solo sottolineare che nel 50% di risposte critiche, la domanda è la vedete, il governo ha agito in modo irresponsabile e soprattutto perché avrebbe dovuto mettere in quarantena già un mese fa tutti coloro che provenivano dalla Cina. Siccome qui c'è Rixi, lo dico perché i governatori del Nord e soprattutto della Lega avevano chiesto questo. Infatti si identificano moltissimo con il centrodestra, perché è stato un argomento usato dal centrodestra e gli elettori rispondono in maniera abbastanza... L'altro dato è anche di poco inferiore e si dice che invece noi in Italia abbiamo messo in atto misure anche più stringenti che nel resto dell'Europa e quindi in questo senso c'è un plauso, però l'epidemia era inevitabile. No, no, devo dire la verità, normalmente è anche maggiore il divario, questo è più alto del solito rispetto a una posizione pro-governativa, proprio perché comunque ha a che fare con la sanità che ha un sentiment positivo. Un sentiment positivo. Vediamo il secondo cartello, come valuta nello specifico alcune misure che sono state prese e la reazione degli italiani, vediamo. Qui è una cosa interessante perché se sommiamo un po' i contrari a quelli che pensano che sia un'esagerazione, si sta esagerando, il virus, come dicono molti esperti, è poco più grave di un'influenza, prende il 43,6%, quindi c'è una buona fetta di italiani che non è preoccupata, anzi è più preoccupata per quanto riguarda l'economia. Se sommiamo 21,43, quelli che vorrebbero buttare giù un po' questa retorica troppo allarmistica sono in realtà una netta maggioranza. Poi ci sono quelli che addirittura vorrebbero bloccare le frontiere, quelli che vorrebbero chiudere qualsiasi cosa, scuole, università, musei, eccetera, e sono pochissimi però. In realtà ci accorgiamo anche dalle altre risposte che gli allarmati proprio in maniera drammatica sono una minoranza, però pur essendo una minoranza fanno molto rumore e fanno apparire, diciamo, ecco, nella domanda che ti faccio, molto banale, se il 43% ritiene che si stia esagerando e il panico diffuso, la preoccupazione, gli assalti ai supermercati, la corsa alle mascherine, le sostanze igienizzanti, allora da chi dipende? Sono poche migliaia di persone, perché poi alla fine rappresentano un 5%, se pensiamo al 5% dei italiani sono comunque tantissimi, sono milioni, quindi alla fine immaginiamo, infatti pure se guardiamo il cartello successivo, che è molto molto importante... E qui diamo un dispiacere a Rizzi, perché lo vediamo, secondo lei la gestione della sanità va nuovamente centralizzata, il cartello numero 3, eccolo qua, e il 32% dice sì. Ma diciamo, se sommiamo i due sì, otteniamo il 52% contro in realtà un 45% dall'altra parte, anche qui ci troviamo con la dicotomia, però stavolta diciamo c'è una maggiore voglia di centralizzazione, proprio perché la centralizzazione si identifica con la fiducia nella sanità. La sanità non ha dato il meglio di se stessa, quindi bisognerebbe dividerlo per regioni, andare a vedere il Veneto, la Lombardia, la Fuglia, la Calabria. Se vediamo il quarto cartello... Vediamo il quarto cartello numero 4, ma questo diciamo riguarda più il sentiment personale, no? Esatto, questo si rifà esattamente a quello che diciamo prima, guardate qua il 56,4 dice che non è preoccupato. Quelli che dicono comunque che temono per la propria salute e per quella dei familiari sono soltanto il 17,2%. Poi alcuni dicono sì, magari per gli anziani, quelli che già hanno problematiche, sono molti a dire questa cosa perché in effetti diciamo per una persona giovane... Abbiamo visto che le vittime sono soprattutto pazienti over 65 con patologie, un quadro diciamo sanitario già compromesso. Però quelli che sono preoccupati realmente, diciamo senza avere una reale patologia che già li porti in situazioni di difficoltà, sono pochi. Cioè quelli che pensano, io sono giovane, in piena salute, sportivo e da un giorno all'altro, boom, muoio. Lo pensano in pochi, non credono tutti quanti che sia una situazione così drammatica. Allora, grazie...